Potete chiedermi tutto quello che volete, io sono il giovane Staffelli, non il giovane Skywalker. Ma guarda, Star Wars, io sono un fan dal 1977, da quando arrivò l'episodio 4, che in realtà allora era l'episodio 1, e mi sono visto tutto quello che è successo in questi anni. Devo dire che sono molto felice che Disney abbia preso in mano tutto l'Ambaradan, perché riusciamo a vedere più film e più prodotti di questo mondo che per me è stato l'infanzia, l'adolescenza e tutto il resto. Quindi oggi venire a vedere che cosa si sono inventati per raccontarci in questo mondo di Star Wars sulla storia del giovane solo mi entusiasma, sono emozionato come un bimbo. Sì, mi piacciono tutti, devo dire che però quando è presente la forza, quando sono presenti i Cavalieri Jedi, il prodotto prende un'altra piega. Perché è vero che il mondo di Star Wars è molto bello, però chi come noi è legato alla vecchia saga ama vedere il mondo di Star Wars, ma poter vivere in ogni episodio anche uno spicchio della forza, della filosofia dei Jedi è da quel quid in più. Eh, è dura qua, però credo il giovane Obi-Wan.